Il lunedì è il giorno della settimana dedicato allo Spirito Santo, ma anche alle anime del Purgatorio. È una buona pratica destinare qualche minuto del proprio tempo a pregare in ristoro delle anime abbandonate, che nulla possono più fare per se stesse e che hanno bisogno dei nostri soffraggi per entrare in Paradiso. Preghiera per le anime del Purgatorio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dulcissimo Signore Gesù, ti prego di voler esaudire per i meriti della Tua Santissima vita questa preghiera che ti rivolgo per i defunti di tutti i tempi, soprattutto quelli per i quali non si prega mai. Ti prego di supplire a tutto ciò che queste anime hanno trascurato nell'esercizio delle Tue lodi, del Tuo amore, della riconoscenza, della preghiera, delle virtù e di tutte le altre opere buone che essi avrebbero potuto compiere e che non hanno compiuto o che hanno compiuto con troppa imperfezione. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. L'eterno riposo dona loro, o Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diffondere la preghiera è la più bella lode al Padre. Puoi invitare a conoscere il canale e altre persone condividendo i link sui social. Se ti fa piacere sapere quando verranno inserite nuove preghiere, iscriviti e clicca sulla campanella. Grazie per aver pregato con noi. Dio ti benedica.